Questa volta hanno dato la loro conferma in anticipo. Dopo il forfete lo scorso 18 aprile, domani i commissari Angelo Giustini e Ida Grossi saranno all'ospedale di Isernia per incontrare medici e operatori del presidio, in particolare quelli del reparto di senologia, su cui continuano a suonare sirene d'allarme riguardo alla paventata chiusura. Ad attenderli ci sarà di nuovo il comitato in seno al problema, che in questi mesi è sceso più volte in campo in difesa della sanità pubblica. L'ultima volta, proprio lo scorso 18 aprile, quando in via Sant'Ippolito si sono ritrovati cittadini, professionisti e amministratori, tra cui i sindaci di Isernia, Venafro, Roccamandolfi e il presidente della provincia, per lanciare un accorato appello ai commissari. Basta con lo smembramento dell'ospedale. Ai commissari però era arrivata solo l'eco della manifestazione, in quanto all'ultimo istante avevano comunicato la loro assenza perché impegnati in un incontro con Toma. Ora la data è stata fissata nuovamente, domani i commissari saranno a Isernia. Ad attenderli ci sarà di nuovo un nutrito gruppo di cittadini e i rappresentanti del Comitato Storico del Bene Comune del Veneziale. Presenti sicuramente anche gli amministratori e i politici locali, che l'ultima volta avevano ribadito la loro volontà di lottare per le sorti dell'ospedale, in particolare per il reparto di senologia. Un'unità operativa quest'ultima, che nonostante sia uno dei fiori all'occhiello della sanità molisana, rischia di chiudere i battenti in un'ottica di ridimensionamento e rientro dal debito. Il reparto di Sernino potrebbe essere accorpato a quello campo bassano, generando non pochi disagi per le tante pazienti seguite dai medici del Veneziale. Le circa 120 operazioni chirurgiche all'anno potrebbero non bastare per salvarlo. Una situazione che ha svegliato dal torpore di Sernini, che domani torneranno in massa in piazza a difendere il loro ospedale.